Senatrice Erika Stefani, qual è il suo giudizio sullo svuotacarceri proposto dal Governo Letta? Chiamiamolo effettivamente per quello che è. È un decreto svuotacarceri. Che ne dica il Ministro si sta trattando veramente di un provvedimento che è idoneo soltanto a liberare delle persone che sono destinate a espiare la loro pena con la reclusione all'interno di un carcere, a questo punto di godere dei benefici che per noi diventano proprio oltraggiosi, e sottolineo proprio oltraggiosi, proprio per le persone oneste. Il crimine va punito e va punito severamente. Noi non comprendiamo perché un problema del sovraffollamento delle carceri debba essere risolto in questa maniera che va semplicemente a detrimento delle persone oneste. A questo proposito la Lega Nord quali alternative propone? La Lega Nord ha già avanzato delle proposte, che sono delle proposte serie, perché di fronte a un problema il sovraffollamento, una maniera per risolvere il problema è quella effettivamente di costruire di nuovi istituti penitenziari, delle nuove carceri. Oggi attualmente abbiamo anche delle carceri faticenti. Solo in questa maniera si darà la possibilità di espiare la pena come riteniamo noi in modo doveroso, ovvero nel carcere. Le pene alternative, lavori socialmente utili, sono tutte delle possibilità, ma si devono solo aggiungere a ciò che è la reclusione.